Bella a tutti ragazzi, io sono Petru e bentornati su questo nuovissimo video ragazzuoli, ci abbiamo mandato una cesta Ragazzuoli siamo tornati finalmente col canale, voglio chiedere scusa, sto facendo un video a st'ora di sera Però ragazzi mi dispiace un sacco perchè non ho potuto fare video, sono stato, anche se c'è il coronavirus fuori Sono stato in vacanza un attimo dai miei nonni in Puy, a mangiare la pasta con Sugo Però ragazzi sono tornato da voi, mi raccomando, supportatemi e oggi torniamo su Brossus Ma è una domanda, perchè dietro c'è lo sfondo con Clash Royale? E ok ragazzuoli eccoci tornati incredibilmente qua, ho due cose da dirvi Numero uno, a sto gioco sono diventato talmente in albo che non sapete quanto Perchè non ho, non ci ho più giocato raga, perchè non avendo più video da registrare con voi ovviamente C'è stato anche il nuovo bilanciamento dove qua, praticamente adesso però, praticamente qua Spike è molto più forte Non come 8 bit che non deve rompere, ho giocato con Fortnite raga quindi sono stato un po' impegnato Vi chiedo scusa tra l'altro, ho visto il signor Davidino, ovvero il mio amico noto, mi raccomando ragazzi Passate le descrizioni a vedere i suoi video Ho visto il mio amico Davidino, piccolino, che carino porca di quella Ma carina, vabbè ragazzi, sono diventato pazzo io Così tanto che faccio un'esplosione, ve la metterò con l'edit Come sempre siamo sfigati e c'è andata così, c'è andata così Voglio vedere un po' le notizie, perchè dietro c'è lo sfondo con Clash Royale House Sport, c'è Grex, poi c'è Nemos, però vabbè non c'è niente Ma io mi chiedo perchè dietro c'è lo sfondo con Clash Royale Che è magari un modificamento di una mappa, poi non lo so Allora, Sprovvivenza in duo Ragazzi mi raccomando, non è sul canale di Davide Tra l'altro c'è anche i capelli di cacca, andate sul canale di Davide Perché? Perché se andate sul canale di Davide io paio in uno dei suoi video E oggi ho visto un suo video e mi ha detto che c'è il suo abbonato leggendario Ma non c'è il testo abbonato, però bene Ok, andiamo Ok, l'ho notato adesso, siamo con Dana, Mike, devo stare lontano Perché mi sono preso Piper, raga, ed ha troppo Tra l'altro Piper, raga, nel bilanciamento, se non sbaglio Non l'hanno proprio toccato... Oddio Nooo Stai lontana, stai lontana, stai lontana, Maxine dai miei stivali Tra l'altro, raga, potrò portare anche un chest opening, se riesco Come avete capito nell'intro, raga Sono stato dai miei nonni Puglia in vacanza Ok, accettiamo il carissimo Dado No, che ti dico, non lo possiamo accettare sto brutto Sono in registrazione Te pensa al tuo canale nel frattempo, o no, ti berezzate i miei stivali Ragazzi, Davide sta per raggiungere i 30 iscritti Ho già una cosa speciale per Davide Sotto nei commenti, hashtag Petru vs Davide Non voglio, raga, di vedere chi è più forte fra me e Dado Di sicuro sarà lui, perché Io, raga, ve lo dico, sono stra-arruginito su sto gioco Non ci gioco quasi mai Non ci sto mai giocando, in pratica No, 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 questo è mio Ok, la dentillata Devo un po' rigiocarci, direi Non ci ho mai giocato, se mai il gioco Qualche volta capita una partita in singolo Però ce l'abbiamo fatta, 6.002 9 coppe e poi per a livello 10 Non mi dovevo rivelarla, a livello 10 Ok, questa bella Quanti getto? 84, stiamo che anni? Ci apriamo un'altra cassetta Ok Non me ne ho accorto poi di aver toccato questa coppa Allora, monete, 8 bit Figuriamoci se si trova un nuovo brawler Ok, andiamo a rigiocare un'altra partitella Volevo premere esci perché non volevo usare Piper Però vabbè Scusate, raga, se abbiamo registrato questo video a quest'ora di sera Però avevo solamente questo tempo per registrare un video Mi sembrava doppico Ok, spacchiamo questa cassetta qua Ok, distruggiamo E va bene Ragazzi, avevo già detto della regola che faccio ogni sabato un nuovo video Però questa regola la voglio portare avanti Raga, mi stanno chiedendo gli occhi Scusate che è pure ora che andrà a nanna per me Ok 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 Ok, l'ho hitto 2280 No, Bea, no, Bea Brava Ui, abbiamo chiedato questa Leon No, raga, Leon con un bilanciamento OP Ok, ragazzi Occhio a Leon, occhio a Leon Cioè, Bea L'hanno toccato nel bilancio mezzo Cioè, l'hanno diminuita Ovvero che mi era coloso scusare solamente una volta per partita Ok L'ho killato Grandioso Grandioso Ragazzi, questo corto video si conclude qui Mi dispiace ragazzi Però siamo appena tornati sul canale Spero che vi piaccia piacere ragazzi Che siamo ritornati Sono un ragazzo molto impegnato Mi dispiace per aver portato altri video Da vostro Petru è tutto Noi ci vediamo la prossima volta Con un prossimo video Bye Sto accadendo